Gli ordigni erano innocui perché non voleva fare del male a nessuno. Roberto Di Santo si è difeso davanti al GIP Luca De Ninis che lo ha interrogato in carcere a Pescara, dove il bombarolo è rinchiuso in stato di fermo da venerdì scorso. Il 58enne, originario di Rocca Montepiano, fermato in un casolare di Rosciano dopo dieci giorni di fuga, ha ammesso di essere stato lui a piazzare gli ordigni. L'uomo è accusato di essere l'autore di attentati incendiari nel Pescarese ai danni della villetta di Villanova di Cepagatti e a Chieti ai danni del tribunale in piazza San Giustino e alla casa famiglia disabitata di via Maiella. L'interrogatorio di Di Santo nel carcere di San Donato si è svolto alla presenza del PM Silvia Santoro. Il legale difensore dell'uomo si è opposto al fermo perché, ha spiegato nell'attuale ordinamento, non è contemplato il reato di tentata strage. L'avvocato ha chiesto misure alternative alla detenzione in carcere, in particolare gli arresti domiciliari. Nelle prossime ore ha attesa la pronuncia del giudice insieme alla convalida del fermo. Era una messa in scena, ha detto Di Santo durante l'interrogatorio durato due ore, aggiungendo che il suo intento era attirare l'attenzione su alcune problematiche che hanno investito la sua famiglia e portare alla luce quanto la giustizia non è riuscita a far emergere. Il suo difensore, Alfredo Di Pietro, ha fatto sapere di non avere intenzione di chiedere la perizia psichiatrica. Bisogna sì valutare la personalità di Di Santo, ha detto, ma è una persona esasperata da tutto un vissuto. L'avvocato ha anche riferito che Di Santo è attualmente in cella con altre persone, con le quali ha rapporti tranquilli e sereni. Si trova bene, ha con sé i libri sull'Islam, ha spiegato Di Pietro e farà richiesta anche di altre pubblicazioni, perché vuole leggere. Con rumore e far cantare al decennino.